Sono sul piede di guerra i lavoratori impegnati nei lavori di manutenzione nei presidi ospedalieri di Sulmona, Castel di Sangro, Avezzano e L'Aquila. Sono stati sindacati la Filcams CGL e la Wiltix Will insieme alle proprie RSA a proclamare lo stato di agitazione chiedendo l'intervento della prefettura dell'Aquila. Ad oggi sembrerebbe che la società Olicar che gestisce la manutenzione degli ospedali provinciali non solo non ha risposto a una richiesta di incontro presentata dalle organizzazioni sindacali ma ha pensato bene di far pervenire tramite email la comunicazione che per problemi finanziari non sarebbe in grado di pagare gli stipendi nel mese di agosto 2015 dando solo un acconto di 350 euro e peraltro non garantendo nemmeno il saldo a fine mese. I sindacati ritengono che vada garantito il pagamento entro le date consentite, non oltre il 15 ottobre, e vadano a dare indicazioni certe sul futuro dei lavoratori precari da stabilizzare. È evidente che se dovessimo registrare l'indisponibilità della Olicar, avvertono i sindacati, saremo costretti ad effettuare le opportune iniziative di lotte, anche se d'evidenza pubblica con possibili ripercussioni, nostro malgrado, sui servizi da effettuare con disagi per l'utenza. Come organizzazioni sindacali si leggono una nota, vogliamo ricordare che tutto ciò determina un fatto gravissimo, in quanto molti lavoratori si spostano con i mezzi propri e pertanto ogni giorno affrontano costi elevati per raggiungere le serie di lavoro, dalla serie dell'Aquila per la serie di Avezzano, da Sulmona a Casteldisangro, da Avezzano a Sulmona e viceversa, e qualcuno viaggia anche da Terramo. La Olicar dunque dovrà dare conto di come faranno questi lavoratori, a garantire ogni giorno sicurezza e funzionalità che osano le organizzazioni sindacali.